La Commissione Tributaria regionale L'indagato, difeso dagli avvocati Luca Gentile e Michele Titoli, rivendica comunque la correttezza del proprio comportamento. Gli accertamenti sono stati avviati in seguito ad una segnalazione partita dalla stessa Commissione Tributaria. L'organismo ha infatti rilevato che le due decisioni sfavorevoli ai ricorrenti e trambi rappresentati dal legale erano state poi allertate e trasformate in accoglimento dell'istanza, con tutti i vantaggi derivanti da questo.